... Televisatori di Telequattro, buongiorno, benvenuti a un nuovo appuntamento con Starbene in TV, la rubrica promossa dall'azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste. Questa mattina sono in compagnia del professore Andrea Di Lenarda, che è il direttore del centro cardiovascolare che ha sede in Via Valdoni, perché siete anche al Maggiore, non siete su due. No, no, siamo al Maggiore. Solo al Maggiore, solo al Maggiore, per solo che aveste una location anche a Catinara. No, no, dal 2011 siamo al Maggiore, l'entrata di Via Slata. Ah, ok, ok, sono io, allora in difetto si vede che grazie a Dio magari non frequento questo tipo di servizio. Allora, parliamo di prevenzione cardiovascolare, in generale la prevenzione è un tema che ormai da tanti anni tutta la medicina, nei vari ambiti, porta avanti con molta determinazione, perché, come diceva, uno slogan del passato, prevenire è meglio che curare in tutti gli ambiti. La prevenzione è fondamentale, anche perché stiamo andando verso un allungamento progressivo della vita, che poi diremo anche magari non sarà eterno, perché a un certo punto si fermerà, e spiegheremo anche perché, e quindi bisogna cercare di vivere gli ultimi anni della propria vita sempre più, sempre meglio in salute e non passarli da handicapati, allettati, ammalati. Quindi bisogna lavorare prima per avere questo beneficio dopo la pensione, se no lavoriamo e poi quando andiamo in pensione siamo malati, non mi pare una grande idea. Certamente no, e anche poi se vogliamo, visto che si parla sempre poi di risorse anche economiche, per quanto riguarda il sostegno dei servizi che vengono erogati dall'azienda sanitaria, è chiaro che una persona malata incide in termini generali, appunto, sul bilancio. Ma se già uno pensasse di farlo per se stesso, per star bene, sarebbe già sufficiente, piuttosto che per far risparmiare la nostra vita. Quello dovrebbe essere, quello dovrebbe essere sicuramente il motivo principale che ci spinge, però magari un'occhiata anche così altruistica a tutta la società non ci sta male. Ecco, la prevenzione, e lei prima diceva, arriviamo magari all'età della pensione, uno si aspetta di potersi godere finalmente il frutto di quanto magari ha messo da parte negli anni di lavoro e poi ci sono dei malanni che impediscono di fruire tutto o in parte a questo tipo. Ma la prevenzione quindi deve iniziare però non all'ultimo momento, è una cosa che deve partire, che andrebbe insegnata, se vogliamo, a fin da bambini. Anche a scuola. L'Italia è uno dei paesi in cui l'obesità infantile sta crescendo di più, il che significa che tra videogiochi, tra carenza di attività sportive, tra alimentazione, che è un fattore culturale, no? Perché il non fare movimento, non fare sport e stare attaccato al televisore e al videogioco è un fattore culturale per l'infanzia, i telefonini, eccetera. Questo sta portando a un incremento progressivo dell'obesità nei bambini, nei ragazzi, e sappiamo benissimo che se un ragazzo esce dalla sua gioventù obeso, è molto, molto, molto difficile, anche per meccanismi fisiopatologici, è molto difficile che poi sia un uomo adulto magro. Quindi uno se la gioca già da giovane. Se uno arriva in sovrappeso, chiaro, nell'età dell'infanzia in cui è più facile, perché consumi molto di più, essere magri, è altamente improbabile che poi sia un adulto magro. Certo, in questo senso, quindi, voi state promuovendo una serie di programmi, di azioni, per incentivare, per diffondere la cultura, innanzitutto, direi, no? Quindi, prima di tutto, a partire da far capire quanto è importante. A partire anche dai giovani. Ora, noi siamo cardiologia degli adulti, ma l'azienda sanitaria sta facendo molte attività con gli oratori, per esempio, per promuovere questa cultura del movimento, questa cultura della vita sana. Noi stiamo promuovendo molte attività con le persone più adulte, magari qualcuno anche che ha qualche già acciacco, ma in collaborazione con la ginnastica triestina e con la piscina bianchi stiamo organizzando dei corsi di ginnastica dolce o di nuoto lento, che più o meno sono simili, che vanno bene un po' per tutti. Stiamo promuovendo iniziative in giro per la città, non so se avete sentito del track tour, del camion che è rimasto due giorni in piazza Sant'Antonio la scorsa settimana e un giorno in piazza Unità, 25, 26, 27, c'è stata una ressa al limite dell'aggressività in certi momenti per la voglia di venire, di salire sul track e fare uno screening cardiovascolare, un prelievo di sangue con i principali parametri, colesterolo, emoglobina glicata, eccetera, per fare un elettrocardiogramma, perché la gente ormai sta capendo l'importanza della prevenzione. Qual è il problema? Il problema è che tutti ormai conoscono dove sta il problema, ma il passaggio da questo a un meccanismo virtuoso di stili di vita buoni, di movimento, eccetera, cosa che lei so che sta convincendo a fare, è un passaggio difficile. Certo, anche perché degli stimoli, chiamali così, che erano dalla società, lei prima citava attività sedentare, stare davanti alla televisione, piuttosto che i videogiochi, i computer, lo stesso avvento degli smartphone, che ti mettono a disposizione ovunque tu sia, la possibilità di interagire con tutto il mondo. È chiaro che modifica in qualche maniera anche il desiderio di uscire di casa, perché tanto hai già tutto sullo schermo, c'hai tutto quello che vuoi. Uno socializza sul telefonino, quindi non occorre neanche andare a cercarsi gli amici fuori, ovviamente non nella stessa cosa. Certo, ecco, restando magari nell'ambito, un attimino, dei più giovani, e quindi anche in particolare le famiglie vanno sensibilizzate in questo senso. Sicuramente le famiglie vanno sensibilizzate sia nell'importanza di un'alimentazione corretta e non esagerata, sia nell'importanza straordinaria di consigliare ai ragazzi, di stimolare i ragazzi, di scrivere ai ragazzi all'attività sportiva, fisica, non necessariamente agonistica, perché non è che bisogna farle per forza di cose le gare e vincerle. Tutti hanno lo stesso diritto di partecipare alle attività fisiche e sportive, questa città è piena di queste iniziative, anche se magari uno non è molto portato, è assolutamente indifferente, perché l'importante per la vita è muoversi, non vincere o prendere la medaglia o prendere la coppa che è irrilevante, può far piacere, ma è irrilevante, ma muoversi, abituarsi all'importanza del suo fisico, ma non occorre fare cose straordinarie. Per un adulto camminare, per dire, è più che sufficiente, non è che uno deve per forza correre e fare la maratona di New York di ieri o deve fare cose complicate, o deve spendere soldi nelle palestre, se volete spendere li spendete, non è, va benissimo fare quello che volete, ma basta avere un paio di scarpe comode, un abbigliamento comodo e andare a camminare a Barcola o nella bellissima città o nei nostri percorsi che stiamo costruendo con il comune e con l'azienda è perché il movimento, anche più semplice e gratuito, fa bene, è quello che serve per vivere a lungo in buona salute e non costa nulla. Certo, diciamo che questa vostra attività di prevenzione si inserisce nel quadro più ampio di tutte le attività, penso al richiamo alle signore di venire a fare, ad esempio, periodicamente una mammografia per prevenire, oppure anche per i maschietti, invece, la prevenzione del tumore al colon, e lì arrivano anche a casa le lettere dell'azienda sanitaria che ricorda e sottolinea l'importanza. Lei ha fatto bene, non so se sapeva, non so se dove vuole arrivare quel discorso, ma ci ha azzeccato in pieno, perché arriverà a casa, alle persone dal prossimo anno, una lettera simile, perché con la Regione abbiamo concordato, questa iniziativa della nostra Regione è molto, molto positiva, che io giudico in maniera estremamente favorevole, ha stanziato una discreta cifra per fare screening cardiovascolare gratuitamente per i cinque prelievi del sangue principale, del colesterolo, della glicemia e della creatina per la funzione renale, gratuitamente alle persone adulte da 45 a 60 anni. E questo fa il fatto che la Regione abbia investito un po' di denaro per far sì che la maggior parte delle persone di questa fascia di età possa fare almeno un controllo, chi non l'ha già fatto evidentemente, di questi parametri significa l'attenzione che noi vogliamo dare a questi valori e l'importanza che il nostro sistema sanitario dà alla prevenzione anche in ambito cardiovascolare. Certo, comunque le prime antenne, diciamo così, mediche sul territorio sono i medici di famiglia, immagino, che sono i primi a dovere in qualche maniera accorgersi del scorretto stile di vita di una persona, di un proprio paziente, quindi invitarlo poi ad effettuare sia cambiare modo di alimentazione, di vita, di movimento, ma anche effettuare periodicamente, sappiamo quanto siano i portati, esami del sangue e altri tipi di analisi. Il medico di famiglia è il primo depositario della salute di tutti noi per la sua capillarità, per la sua presenza nel territorio. Certamente non serve per fare prevenzione un cardiologo, non è assolutamente quello il punto di riferimento. Il medico di famiglia è il punto di riferimento alla nostra cultura individuale, la nostra voglia di stare bene, i concetti che si sentono e si leggono dappertutto su come si deve mangiare correttamente, come si deve muoversi, ma sicuramente il medico di famiglia è la persona che può meglio consigliare il suo paziente o la sua persona sana a come comportarsi, a mantenere il peso corretto e quando servirà, se servirà e adesso se ci sarà lo screening dal prossimo anno, quando ci sarà lo screening gratuito, se la persona non l'ha già fatto negli ultimi due anni, consigliare di fare una volta questo esame per capire che tendenza c'è. Le donne dopo la menopausa hanno la tendenza a salire sia di colesterolo che di glicemia che di pressione, non tutti devono per forza salire, ma dopo la menopausa cambia il corpo delle donne e quindi c'è questa alterazione ed è importante conoscere il proprio corpo, così per gli uomini che a 50 anni già sono in qualche modo a rischio, il medico curante è sicuramente il punto di riferimento. Certo. Come centro cardiovascolare ricordiamo che per correggere il mio errore iniziale una seconda volta in via Slataper, quindi nell'ambito dell'ospedale maggiore. Via Slataper 9, il passo carraio dell'ospedale maggiore. Ecco, avete quindi quotidianamente comunque affrontato questo tipo di problemi in base, immagino, a un calendario di prenotazione che al di là è fatto di partecipare agli eventi come quello che descriveva prima che si svolta in città con il track tour. Durante tutto l'anno ovviamente uno che capisce, che immagina o a quale viene suggerito di rivolgersi può venire da voi. In che tempi viene trattato questo paziente? No, ma i tempi dipendono dalla richiesta del medico. Qualche volta arriva al centro cardiovascolare qualcuno che si lamenta dicendo che lui ha una visita a 4 mesi. Per forza che ha la visita a 4 mesi se la richiesta del curante per un controllo cronico è una richiesta a 4 mesi perché, adesso senza entrare nelle lettere B, D, P che non hanno grande senso in questo momento, il concetto fondamentale è che grazie a Dio nel sistema sanitario di questa città e di questa regione se uno ha bisogno di una visita in tempi brevi ce l'ha al 99,9%. Se uno ha la richiesta per fare una visita fra 4 mesi ce l'ha fra 4 mesi. E se uno vuole una visita oggi pomeriggio, se è un curante ovviamente, non il paziente, vuole una visita perché c'è bisogno oggi pomeriggio, telefonando al cellulare del reperibile al centro cardiovascolare ha una visita oggi, naturalmente previo contatto del curante che spiega il problema e si concorda il percorso. Noi al centro cardiovascolare vediamo alcuni di questi pazienti per prevenzione, è evidente come dicevamo prima che il problema centrale sta nel medico curante che una volta che ha capito che il paziente è realmente a rischio cardiovascolare alto, attiva dei percorsi che sono concordati a livello aziendale e sono concordati a livello regionale secondo il piano regionale prevenzione e questi percorsi indicano che il paziente ha rischio alto o molto alto, è giusto che abbia un controllo cardiologico e quindi la richiesta del medico in base alla gravità della persona lo potrà chiedere a 10 giorni, lo potrà chiedere a 30 giorni, lo potrà chiedere a 4 mesi semplicemente barrando la richiesta. E l'avrà a 10 giorni, 30 giorni o 4 mesi. Certo, certo. Ecco, senta prima in qualche maniera... Accettiamo uno o due giorni di sgarro ma non di più. Certo. Prima non vorrei che i nostri telespettatori pensino che abbiamo voluto in qualche maniera demonizzare il web di smartphone e di computer, no? No, no, no. Anzi, perché proprio voi adesso lo state utilizzando in chiave positivissima No, assolutamente. Per un progetto che state portando avanti, no? Che si chiama un sito, anzi la prevenzione, scorre.it, dove è possibile anche poi interagire, votare, ci spiegano di che si tratta. Ma il sito non è nostro, noi abbiamo presentato un progetto come Trieste, con l'azienda sanitaria e con il comune di Trieste, a questo sito che è un sito supportato, c'è uno sponsor sotto che premia i migliori progetti, c'è una commissione indipendente, premia i migliori progetti in tema di promozione della salute. Il sito si chiama www.laprevenzionescorre.it, potete andare dentro, entrare semplicemente con il vostro computer o col vostro telefonino, www.laprevenzionescorre.it e all'interno troverete il progetto, il progetto sostanzialmente richiedere all'Italia di presentare delle idee per promuovere la salute. Sono stati presentati 37 progetti in Italia, uno è il nostro, il nostro è il numero 13, quindi se entrate nel numero 13, non so se porta fortuna o sfortuna al 13, non so, io non sono superstizione, non so, comunque potete entrare, non vi succede niente, entrate al numero 13 e leggete il nostro progetto, che è un bel progetto di creare nel centro cittadino tra i percorsi, per la gente di Trieste, per i turisti che vengono a trovarci, che sono un misto di promozione della salute, si cammina di interesse storico, turistico, culturale, religioso, perché passano attraverso i caffè, le chiese, i palazzi, i punti storici di questa straordinaria città in cui noi viviamo. Se il progetto vi piace, potete, se non avete un vostro sito su Facebook o su Instagram, ci sono delle istruzioni scritte sul sito, o su Twitter, potete chiedere a vostro figlio che lo faccia, che lui sicuro ce l'ha, e votare per noi, votare, lo trovate scritto lì, comunque ve lo dico, hashtag la prevenzione scorre, hashtag, cioè il cancelletto, scorre 13, noi siamo a scorre 13, scrivete scorre uno e un altro, scorre 13, e cancelletto, cioè hashtag piedi se avete camminato, o bici se siete andati in bicicletta, ci sono tutte le istruzioni, per ogni chilometro che voi avete compiuto a Barcola, sulle rive o dove l'avete fatto, avete guadagnato in salute voi, e se postate la foto del vostro smartphone che dice che avete fatto col contapassi quella distanza, avete anche dato un voto a noi, perché vengano finanziati questi progetti di creare tre percorsi pedonali in centro cittadino, uno intitolato a Joyce, uno intitolato a Svevo, e uno intitolato a Saba, che passano per i punti più belli della nostra città. Quindi anche un arricchimento culturale, oltre che un beneficio per la salute, ovviamente anche perché spesso nella nostra città magari camminiamo, ci muoviamo in maniera frenetica, ci dimentichiamo magari di alzare lo sguardo, vedere qualche facciata di qualche bel palazzo, se posso dire, io ho organizzato, che sono il presidente dei cardiologi italiani ospedalieri, ho organizzato a Trieste, giovedì, venerdì e sabato, i nostri stati generali, dove i cardiologi diciamo più importanti italiani si riuniscono per discutere dove deve andare la cardiologia, cosa che d'interesse generale nel futuro, e tutti hanno manifestato per la nostra città quasi uno stupore, tanto è bella. Certo, c'è mi pare un termine temporale per poter votare? Entro il 30 novembre va votato, potete anche, se avete uno smartphone, un telefonino in cui c'è il contapassi che mantiene anche la memoria dei giorni precedenti, senza richiamare marchio, la maggior parte hanno, voi potete fare la foto del telefonino, vostro figlio sicuramente vi spiega come fare, potete postare tutti i giorni dal 1 ottobre al 30 novembre con quello che avete camminato, farete prima di tutto bene a voi, perché avete camminato, poi anche supportate, non me, che non c'entro niente se non perché l'ho presentato il progetto, ma questi soldi ovviamente non vanno a me personalmente, vanno al sistema, non so dove verranno incamerati tra aziende e comune, ma certamente verranno spesi per costruire i tre percorsi con dei cartelloni, con delle segnalette, con delle spiegazioni, con una app che sarà sempre sul vostro telefonino che vi spiegherà dove siete e perché quel posto è bellissimo, come sarà bellissimo. Quindi se ho capito bene, uno che inizia questo percorso, che ogni giorno magari si fa quella mezz'oretta di camminata, ogni giorno può contribuire? Ogni giorno può contribuire con qualsiasi camminata, ma anche tenendo in tasca il telefonino perché cammina in casa o perché scende le scale o perché va a prendere il pane. No, le chiedo questo perché su certi siti quando si vota online si può votare una volta sola, viene registrato il tuo IP. E' la somma dei chilometri percorsi da chi appoggia quel progetto, ci saranno mille persone che lo appoggiano, ognuno ha fatto in due mesi 100 chilometri, la somma è tutti i chilometri, giorno per giorno, un chilometro il primo ottobre, due chilometri il due ottobre e avanti così. Certo, lei diceva che poi c'è una graduatoria alla fine dei progetti. C'è la commissione indipendente che darà un suo ponteggio, sono i chilometri delle votazioni che faranno una somma, la somma dei due darà i vincenti, a dicembre c'è la proclamazione. Certo, questo però significa che rischiamo in qualche maniera, se fossimo troppo pigri, di non portare a casa il risultato in termini economici, o comunque alla fine questo è più forse un modo per promuovere il benessere e la prevenzione. Allora, noi naturalmente ci stiamo attrezzando per trovare delle soluzioni alternative se non dovessimo vincere, perché è troppo importante. Però questo non deve essere un buon motivo per dire tanto i soldi loro ce li hanno già, perché comunque i soldi non avanzano. Se avessimo anche questi, ripeto, non vengono né a me né a nessuno di noi, vanno nella cassa per costruire questi percorsi, che sia chiaro. E se avessimo anche questi, certamente potremmo fare un qualcosa ancora meglio. In particolare l'app che vogliamo preparare con un drone che si muove sul percorso ha un minimo costo, un piccolo costo, che varrebbe coperto da questa... Certo, una volta che, come tutti lo spieghiamo, il progetto... E viene anche lei. Vengo, ci sono, ok. Mi impegno pubblicamente con altri nostri spettatori. No, volevo chiedere questo, poi lo step successivo, no? Riusciamo a portare a casa il risultato? Le aziende e i comuni acquisiscono le risorse, i fondi per poter realizzare questo, dopodiché comunque una volta fatto il percorso viene abbandonato a se stesso? O la prevenzione comunque, e lo stimolo soprattutto, a usufruire continua? Cosa prevedete di fare? Prevediamo di fare mille iniziative anche agganciandoci a quei percorsi. Noi già facciamo ogni mese il calendario della salute che trovate nel sito web del centro cardiovascolare e dell'azienda sanitaria, in cui le associazioni di volontariato dei cardiopatici e dei pazienti oncologici, perché non dimentichiamo che uno non fa prevenzione per il cuore e si dimentica per il resto. Le stesse cose che fanno bene per il cuore, fanno esattamente bene anche per prevenire i tumori. La Lilt, Lega Italiana per l'Otto dei Tumori, collabora con noi e promuove le stesse cose, ma perché muoversi riduce tutti i tipi di cancro, così come riduce la probabilità di avere un infarto. Quindi con la Lilt, con gli amici del cuore, con lo sui tarte, con il cuore amico Muggia, con i diabetici, noi organizziamo tutto l'anno ormai, a febbraio, la camminata sulla riva di Barcola, partecipiamo l'altro anno in 600 alla ex Bavisella che adesso si chiama Miramar. Faremo iniziative in questi percorsi, ma cercheremo di far muovere la città nei vari modi bellissimi, in Carson, Napoleonica, eccetera, perché questo è il futuro. Il futuro non è prendere più farmaci o a dosi più alte. Quello se si deve fare lo si fa, ma il futuro è cominciare a non prendere l'ascensore per tornare a casa, ma anche con calma fare le scale. Gli ascensori vanno aboliti, a meno che non avete la cassa da qua da portare su. Queste sono queste piccole cose che fanno bene. Benissimo, allora vi ricordo ancora il sito è laprevenzionescore.it per poter dare il vostro contributo in termini di impegno. Score 13. Score 13 è il progetto da votare, certamente. Grazie allora professore Andrea Di Lianada, direttore del centro cardiovascolare di Via Sdata, per presentare con noi. Stabilità TV finisce qui, ci rivediamo nella prossima puntata, credo a questo punto l'unodi prossimo. Grazie a tutti, buona giornata, arrivederci. Buongiorno a tutti, grazie a voi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.